Ah ma Post Malone è scarso? Sì, ma è proprio su quello che si basa l'evento. Lui è scarso su Apex e quindi ha fatto apposta un evento in cui hai tre vite, in cui si rianima veloce, proprio per questo che ha fatto l'evento. Quindi bisogna ringraziare il fatto che Post Malone sia una pippa su Apex per questo evento bellissimo che hanno fatto. Ascoltami Davide Ottiti, vuoi fare una cosa per me? Mi vai a prendere i punti che hai fatto la cara più viva? Ma dai, basta! Ragazzi, bentornati nel canale, bentornati su Apex, con l'ultimo purtroppo appuntamento nella modalità 3 chance dell'evento in collaborazione con Post Malone, evento che finirà tra tre giorni, a meno che non riusciamo a convincere a farlo rimanere con una bella raccolta firme, ma mi sembra molto difficile. Ragazzi, oggi vi lascio un doppio gameplay, vi ricordo prima di supportare questo video con un mi piace e di iscrivervi se non l'avete fatto per supportarmi e per non perdervi i prossimi video, e buona visione! Zero armi in una casa intera, madonna cara, che gioco di merda, godo! Cioè, se mi fosse entrato uno da questa porta si sarebbe beccato doppia arma, e io in tutta la casa zero. Non ha workato. No. Mi sta bene, dai, chi troppo vuole il cazzo prendo. Ce n'è uno che lagga sul tetto. Eh, c'è il full team là però, è arrivato. Fai una persona seria. Così croc. No, no, no. One shot in Newcastle. Non ti trovo? Ah, li avevo già sinceramente, sono morto io per prendere i buoni. Avevo lasciato one shot in Newcastle lì. Io non ho armi, io mi do per stagermi. No, io devo portarmi la carattina. Madonna, sono in un team di clown, sono di buono. Nocati due? Team che non mi aiuterà perché sono entrambi senza armi. Easy. No, ti prego. Ti prego. Me li hanno restati entrambi. Sì ragazzi, quando volete non ho catticinque io. Così per il meme, ovviamente. A chi, a chi, a chi? No, lo va a rilassare il best time. Ciao triplo. Altri da me mi sembra. Tieni. Uno di vita la... Oh, zero energy. No, a me sembravano sopra quelli che ho sentito. Esatto qua. Vabbè. Che pagliaccia. Neanche uno, l'esco. Che pal. Allora, sbogli, tranquillo. C'è... Ragazzi, non ho cattito due. Se volete aiutare... Apprezzo. One, check, one, check, one. Perfetto. C'è, beh, penso siano fake sbogli. Ho presente, sì, ma non credo ti si possa veramente deformare il cranio tenendo le cuffie. Non è il cranio che si deforma, è solamente un po' di... Ma, vabbè, la pelle, minchia. Eh, ma poi torna normale. È ovvio che torna normale, figa. Cioè, non è che ti si può... Sì, 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 ma non è che ti si può deformare l'osso, madonna. Certo. Ah, vieni tutto, però. Dio, buono. Non è che mollano un trone, questi? No, mamma mia. Non lo mollano un trone, vero? Eh, proprio no. Lo stavi per stickare. Minchia, una media danni kill imbarazzano. Eh, lo so, eh... Anche io, ma al contrario. Mille danni, nove kill. Mamma, non avevo l'arma in mano. Knock uno. Davidotti, Davidotti, sono qua, sono qua. No, il Davidotti. Che schifo, me in mirage. Ma? Dov'è il terzo, invece? Easy. Comunque la media danni imbarazzanti ce l'hai a discapito mio. Perché all'enda avevo fatto un blotto di... Adesso l'ho 11.006. Al market. Preso uno qua. In mira alla vintage. 104 alla vintage. Presa. Ho preso anche l'altro. Easy. La tripla. Vorrei qualche caricatore leggero oro, minchia. Ma è stra brutto giocare senza leggero oro. Cioè, gli ori, gli ori, gli ori sono troppo belle. Troppo belle. Qua dentro. Che schifo dover ricaricare. Laseriamo sulla zip? Eh, laseriamo. Io ho fatto zero danni. 26 e non è morto. Laseriamo sulla zip. Cheat. Zero danni. NicoMGarchivio è il mio secondo canale, dove riposto tutte le live che faccio su Twitch. Quindi, se siete alla ricerca di contenuti giornalieri discretamente lunghi, o se volete iscrivervi anche solo per supportarmi, lo trovate linkato nei commenti. Da quali volete andare? Qua sotto c'è gente? Ah, ma qua sotto... Eh, ma ci sono andati dietro. Sì, ma qua sotto ce n'è uno noccato. Grazie per avermi detto dove sono i tuoi teammate, brother. E' 180. 50, quello che ti arriva. Dove arriva? Sopra. Ha restato il mio, ovviamente. No, ti prego, ti prego. Eh, è one, è one. Arriva, 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 arriva. Che culo. Eh, fortuna. Guarda un attimo. Eh? Eh, te l'ho detto, è one. Eh sì, che culo che l'hai lasciato one. Arriva, resta, resta, resta. Sereno è, seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà. Sereno è, seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà. E' certo che ho imparato sta minchia tanto. Me la spamma Conduit di Obono ogni due minuti. Ogni due minuti fa. Sereno è, seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà. Ripeti insieme a me. Ah. Ma è da me è uno. No. Davidotti, merda. 170 blu. Uno è lì, è del red. È un altro team. Però 50 secondi. Eh, non ho lei l'uno da darti, eh. Eh, Davidotti ti ressa. Era one in mirror. Ma quanti cazzo sono? Un altro K1. Ok. Bel lavoro. Al cannone? Mi sembrava di sì, però. Ma arrivano, arrivano, arrivano al cannone. Sì, sì, sì. Ma non è la tua esca? Ma secondo me sono gli ische di Davidotti. Non la sto muovendo. No, no, ma stanno trollando. Arrivano, 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 arrivano. C'è, c'è, ce n'è uno. Lancio una stella. Riprende il cannone, bro, eh. Eh, riprende il cibo. Io non lo riprendo. No, neanche io, neanche io, neanche io, neanche io. Fa un culo. Sto curando. Infatti vengono a piedi. Ma sì, ma lei avrà preso il cannone per andare a piedi da loro, sicuro. Era due. Eh, non era male l'Ori, eh. Adesso in più ti vai qua. Ottanta, novanta. Novanta la britta. Non lo puoi riprendere, vero? Fuori sì. Sto caricando gli scudi. L'ha preso pure il lockato. Hanno preso il cannone tutti. No, 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 no. Eh, ma lo riprendono. Ma sono tutti a terra. Manca solo uno appena restato. Riprenderanno il coso. Io sono andato, ho noccato di nuovo. Si stanno restando a vicenda qua. E se solo, ma almeno è cacciata. Riprendo il cannone e mi restate. Ma ho fatto un botto di danni, eh. Ho fatto un botto di danni. Due knock di nuovo. No, cannone, cannone, cannone. Eh, ma figa. Eh, vabbè. Eh, non pensavo. Un altro giro. Vabbè, lo resta di nuovo. Dio buono, però. Da me è la Ori. Un team è morto, un team è morto. Altro team da me. Ma quindi questa Ori non era del team... Da me è pieno. E da me è la Ori quella del cannone. Ma quelli ci sono salvati tutti? Sì. Tutti e tre? Dio buono. Sì, ci sono pure restati. Pazzesco. Pazzesco. Così non restarsi. Ma dove sono? No, da me, da me. Sotto, sotto. Sto aprendo il fuoco su... Sì, ma hanno arrestato di nuovo, li sentite. Sì. Era loro? Voglio ti baggare per due ore, minchia. Eh, è un altro team con, qua. Questi qua sono scappati per due ore e mezza. T'ho pensato di aver preso tipo V10 nox su di loro. Vieni, vieni, vieni. Eh, giusto. Fai, fai, fai. È noccato l'altro, però ha restato, ha restorato. No, è impossibile. No, è impossibile. Ho fatto 80 nox anche su di loro. Buono, buono, buono. Ho fatto 80 nox anche su di loro. È veramente indecente la situazione. Quali hai soppato? Ok. Ma questi qua sopra devono scendere tra poco. Rompono il cazzo ancora. Ma uno sopra? Già è restato, già è restato. Sì, però sì, è già restato. Ma iniziamo ad andare avanti. Qua dietro! Preso uno dietro. Quasi knock, quasi crack. Arriba quello vero. E non ho la ulti, purtroppo. Qua dietro full team, qua dietro full team. No. Eh, knock uno dietro. Quasi knock un altro dietro, 10 di vita. Eh, ora sì, se viene verso di me sì. Ho lasciato 10 di vita a due. Vuta, vuta, di che sta a far lì ancora? Ho lasciato uno di vita a due persone. Che sfiga. Shielda. Vai, spammi i res che forse ora si fightano. Hanno preso un knock loro. Attaccati, David. Non mi ha rossa. Provaci, Nico. Fallo, fallo. Hai restato, hai restato. Lei deve attaccarci tu a seba, buono, vai. Lo resto, lo resto. Ma, Davidotti, attaccati al res, vai. 36 flash a uno. Vai, vai. Scopatissimo, scopatissimo. Boh, io non ho mai più preso kill. CG. Solo assist. Beh, qua senza mirage l'avremmo persa. Dio buono. Che goduria. Ce l'avevo io, ce l'avevo io, li ho tenuti fino alla fine. Era una sorpresa. Minchè non li vedevo dal primo giorno di stagione. Guardate. Guarda, sì, ma pareggiato. Suka. Godo. Eh, l'ho detto, non ho preso più kill. Ho preso solo knock, dio caro. E poi, di win, invece, non riesco a farne mille, di sicuro. È impossibile. No, ma perché non le conta nemmeno? Eh, non le conta. Che compagno! Non le conta nemmeno, quindi le contasse. Le contasse ancora ancora. Secondo me, quella sera che tu te ne sei accorto, ce ne aveva contate zero, tipo. Perché tu hai detto che eri a 27 da un botto di tempo. No, ma mi sta bene. Sono un po' gioco. Ho il perforo a scudi e non ci vado. No. Tanto stabilito. Sì, sta arrivando un'altra squadra. Granata a frammentazione. No. Il drop ha il wall jump. Non il nostro, via male. Beh, figurati. Ho fatto un altro da me. Da me ce n'è uno. Ok, il mio team è morto. Hai giocato bene, GG. Hai giocato bene, GG. Turbo compressore, godo. Ora tocca trovare l'avoc. Stanno pushando il nostro. È un pazzo, è fortissimo. Porco diaz, mi devono sparare con le armi di merda da 8 km. One shot in 2 là davanti, one shot in 2 là davanti. Altro team, altro team. E sono morti entrambi, quindi, sì. Ah, li hanno rubati tutti e due loro? Sì, li hanno rubati loro. Let's go. E se ne sono presi due che avevano tipo 10 di vita a testa. C'ha uno di vita, non ci credo. C'ha uno di vita là, Watson. Uno. Presa. È da me, resta. Questo ha quittato, pagliaccio. Stanno bene. Cioè, voleva. Fatto uno full. È rimasto sopra. Eh, mi butto da te. Stanno restando la lifeline, era full viola. Stanno restando la lifeline. Ma... Ma... 172. Hai giocato bene, hai giocato bene, hai giocato bene. Oh, mio Dio. Il carry di Mas Lasteria. Arriva solo a rompere i coglioni e rubare i chili. Mezz'ora che serve. No, non era sotto. Oddio, ho trollato. Peccato. Volevo lanciargli all'addosso, invece c'è niente. Mezz'ora sotto. Uno e... Io ho fatto quello sopra. Mezz'ora sotto. Eh, io ho fatto quello sopra. No, porca madonna. Beh, aveva veramente tanto, però aveva 70. Ci ho fatto killare. La tripla di Nico. Sto rincoglioni. Madonna. Facile, facile. Godoy, mi sono preso anche la kill di Avok. Nel chill totale. Ma tanto chill, siamo con random, lobby facilitate. Preso uno davanti. Stanno già ressando. Cioè, Oddio, in verità no. Ne hanno ressato un altro, infatti. Preso un due sterra davanti. Oh, non mi fa soppare. Vado, finita la sfida. Lascio una granata a fermentazione. Cosa? Ne esce su uno davanti a me? Porco diazze. Uh, Mas Listeria! Restami, Mas Listeria. Dai che sei un bro. Bravo, Mas. Oh, miglior random, comunque. Eh, erano tutti e due one. No, ne ha fatto uno solo. Eh, era one comunque. Eh, vabbè. Però è stato molto bravo. È stato molto bravo. Eh, è stato bravo a esserci nel momento del bisogno. Ho preso il cazzo. Ah, God, è quello che avevo noccato prima. Aveva uno di vita, Loba. Mi ha noccato i tre, Dio Cristo. Eh, ci sta. Mi ha noccato i tre, vengono tutti e tre adesso. No, uno l'hai preso almeno. Ma quello perché mette una torre d'evacuazione? Ma? Chi mi ha noccato? Non quello sulla torre, vengono. Ah, ok. No, che po'. E via. Cazzo, quattro colpi di M-block, 108. Tio, povero. Faitano, sti scemi. Che bianco, cavolo. Crackati due, crackato anche l'altro. No, uno. Manca solo il terzo lì. Ha un HP. Eh, non lo vedo, non lo vedo. Ora sì. Ovviamente. Lui è morto. Minchia, si è fatto uccidere a cazzotti. Ha gente da lui? Sì, sì. Armatura bianca. Ma è morto, è morto a cazzotti da uno con armatura bianca. E non l'hai neanche craccato. Aiuto però. Cioè, lui è morto da queste persone. Lui è morto da queste persone, vabbè. Il brother è morto da queste persone. Guarda quanto sono stupidi che cercano di confermare. Guarda quanto sono stupidi. Il brother è morto da queste tre persone. A pugni. Arrivati, arriva. Questo è ancora più stupido, Fido. Eh, l'hai visto. Altro team però. Riesci a buttarti dietro di me? Sì, sì. Ma il terzo loro chi era? Il più, questo? Ah, ma questo me l'hanno restato. Quanti me ne hanno restati, scusa? No, no, sono stupidi. Ah, sono stupidi. E cazzo, erano due pat con la stessa skin? Eh, resta al volo, restano anche i miei però. Li restano entrambi. Eh, un po'. Eh. Minchia. Con... Due knock, Dio buono. No, ma siamo in due, letteralmente. Eh, sì. Cazzo, lui l'avevo anche restato. Vabbè. Oh, ho preso una kill, godo almeno una. Ah, è l'ultimo che avevo knockato, vabbè. Come l'è in da sto qua? Alla casa. Sì, voglio andare qua. Qua, vieni qua. E ci sono anche gli altri, sì. Ho preso un altro. Ha restato? Non è vero, non è vero. No, non ha restato. Ah, sì, ha restato, sì, sì, sì. Bravo. Oh, ha fatto qualcosa di buono, eh. E anche l'ultimo è stato eliminato. Cioè, ha fatto il res. Unica cosa buona che può fare. C'era wing, ma... Quanto ti gol? Eh, GG, l'avrei presa, ma... Ah, non riesco ad avere i pick da nessuna parte. Sto guardando da tutte le finestre e non ho pick. Ma che fa? Beh, tu li lasceresti stare. Il nostro teammate no, però. Lui non li lascerebbe stare. Che grande. Sono tutti là, sono tutti là. Non andai. Eh, lo so, lo so. Preso uno. Vado, vado, vado. Eh, mi do pullare, mi do pullare. Presi due, quasi, a due di vita. A me erano solo due. Vado a me. Ho zero batteri. Luto. E ne ha zero pure lui, ho zero batterie. E zero colpi pure. Ciao, Davide. A piano tar. No, uno a pieno terra. Abbiamo uno di vita. E ho sempre zero batteri, trovate. Co' diaz, porco diaz. Eh, qua diaz. Grazie, parli. Ultimo con uno di vita. Che sfiga che ho avuto. Ultimo team. Non me ne è entrata una di hit di Wingman. Cioè, sì, me ne sono entrate, ma poche. Blu e oro. Rispetto a quelle che potevano. Sono in tre, però. E l'altro è viola. Ma chi è questo scemo? Ah, il compagno nostro. Ma perché ti ha fatto il droid palu balu? Ma infatti! Vabbè, ma zè che dai, non me ne sono entrate... Cioè, me ne sono entrate zero, a parte quelle che mi sono entrate. Hit a team 2. Vabbè, si è messi molto meglio noi per la safe slot. Sì, sì, ma la inizia. Cioè, molto scontato. Sono scesi? Dammi la vita. Eh, non ce l'ho. Ora sì. 151. Push. E io ho fatto 150 all'altro. E via! Beh, reveal di quello che ha fatto il random! Io dico 1200 danni. Io dico 570. Vediamo che ci va più vicino. Oh! Ci sono andato più vicino io? Minti, ho quasi indovinato proprio. Vabbè, stessi danni. Easy. Easy. Ragazzi, grazie della visione. Se il video vi è piaciuto, supportatelo. E iscrivetevi per non perdervi i prossimi. E quando non avete nulla da fare, se vi va, mi trovate tutti i giorni in live su Twitch. Come sempre, tutti i link utili, tutti i miei social, qui sotto, nel primo commento in evidenza. Buona serata.